Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi vi presenteremo come configurare con facilità il vostro sistema code tramite applicazioni che naturalmente è scaricabile in modo gratuito. Il primo passo sarà aprire l'applicazione e nella prima schermata troviamo il progetto del vostro appartamento diviso in zone. Andiamo a sceglierne una ad esempio la cucina premendo sull'icona e successivamente andando a selezionare il tasto programma giornata. Il primo passo sarà selezionare l'intervallo di tempo ad esempio quello della prima mattinata con inizio alle ore 5 e mezza e fine 8 e mezza e poi andremo a scegliere una temperatura di comfort che desideriamo avere ad esempio 21 gradi e confermiamo la nostra scelta premendo sulla spunta di conferma V. Come potete vedere subito il grafico si va ad aggiornare. Il sistema code offre la possibilità di poter programmare fino ad 8 fasce orari differenti di comfort termico. Inoltre senza uscire dalla stessa schermata abbiamo la possibilità di individuare e scegliere o le altre zone della casa oppure gli altri giorni. E' anche possibile fare il copia giornata come andando a premere appunto il tasto copia giornata e andando a selezionare i giorni che ci interessano e confermare. Il sistema code esegui in tempo reale le nostre richieste andando a copiare le temperature nelle fasce orarie e nei giorni che abbiamo indicato. Inoltre è anche possibile copiare le fasce orarie e le caratteristiche di comfort termico da una zona all'altra. Come? Andando a selezionare vedi settimana e poi selezionando copia settimana. La zona di partenza sarà quella evidenziata e basterà semplicemente premere sulle icone delle nuove zone che si evidenzieranno a loro volta e infine confermare. Così facendo tutte le impostazioni verranno copiate nelle nuove zone.